L'esercizio ci chiede di calcolare il pH di una soluzione 1,60 per 10 alla meno 1 molare di idrossido di potassio, KOH, che è una base forte. L'esercizio fa riferimento al concetto di pH, ossia al parametro utilizzato per determinare il grado di acidità di una soluzione. E ricordiamo che per definizione pH corrisponde al co-logaritmo, cioè meno logaritmo, della concentrazione molare degli ioni idronio della soluzione. Abbiamo in soluzione una base e non un acido, il che comporta la presenza di ioni ossidrile OH- e non di ioni idronio H3O+. Tutte le volte che abbiamo a che fare con una base dobbiamo quindi utilizzare un'altra relazione, che deriva dal prodotto ionico dell'acqua, che è la seguente. La somma di pH più POH fa 14. Calcoliamo dunque prima il POH, che è semplicemente il co-logaritmo, cioè meno logaritmo in base 10 della concentrazione molare degli ioni ossidrile, e in questo caso specifico, trattandosi di una base forte, si dissocieranno tutti gli ioni ossidrile disponibili, ossia la concentrazione di OH- sarà uguale alla concentrazione della base. E essendo la concentrazione della base pari a 1,60 per 10 alla meno 1 molare, vorrà dire che la concentrazione di OH- è uguale a 1,60 per 10 alla meno 1 molare. Quindi il POH sarà uguale al meno logaritmo di 1,60 per 10 alla meno 1, che fa 0,796. Di conseguenza, sfruttando questa relazione, il pH sarà pari alla differenza che c'è fra 14 e il valore che abbiamo appena calcolato, 0,796, cioè 13,2.